Salve e benvenuti di nuovo a Lion Bull Academy. Oggi siamo nella sezione di criptomonete e andiamo un po' a vedere come stiamo andando e come si è risolta la situazione. Come vi ricordate avevamo fatto con il navigatore Brave, già mi hanno inviato le prime bat e sono state queste 2,0874 un giorno fa e poi ho preso i bitcoin che ci hanno mandato col minatore che abbiamo fatto, dopo ogni mille satoshi li potevamo inviare. Li ho inviati qua, mi sono arrivati e senza dover pagare niente e li ho passati a bat, così ci ho adesso 2,58 bat che sarebbero 55 centesimi di euro. Perfetto. Adesso vi spiegherò come possiamo migliorare, già sono i prossimi bat che ci daranno il prossimo mese, per adesso già siamo a 0,9. Bene. Andiamo a fare adesso una cosa molto interessante. Andiamo a prendere ancora più token di un'altra criptomoneta, sempre con il nostro navigatore Brave e senza dover fare niente, quello che facciamo normalmente. Come si fa questo? Sotto nel link della descrizione avete il link di affiliato, per favore schiacciatelo con lì di affiliato così almeno ci guadagno qualcosa. E' un ricercatore che usa Google o qualsiasi altro ricercatore voi vogliate e per le ricerche che fate vi dà 0,25 token di una criptomoneta che possiamo poi portarla al nostro exchange, passarla a bitcoin e metterla dentro il nostro uphold. Ok, andiamo a vedere di che si tratta. È esattamente questo qua, chiamato pre-search. È un ricercatore che possiamo utilizzare Google o altri come vogliamo, adesso ve lo spiego tutto. E facendo ricerche, per esempio qua, andiamo adesso a cercare, andiamo un'altra volta su, per esempio, io voglio cercare un attivo, perché stiamo facendo investimenti e mi interessa cercare un attivo in questione. Schiaccio qua dove c'è scritto Google Finance o posso su Google Yahoo, questo possiamo personalizzarlo, eh. Andate su qua, personalizzazione, providers. E qua potete personalizzare quelli che voi volete. Io già l'ho cambiato e ho messo quelli che a me interessavano. Allora, per esempio, andiamo su Google Finance e cerchiamo Google. Cerchiamo Google. Tornaticamente in due, vedete, abbiamo 5,50 già, eh. Ci fa la ricerca, si dice che non ha trovato niente. Va bene. Torniamo indietro. Non ci ha dato niente. Andiamo a cercare, allora, su Google Finance, Amazon. Amazon. Facciamo, eh, i mesi già sono 5,75, si diventa tutto qua. Adesso stiamo ricercando Amazon, ci esce i nostri dati di Amazon, come potete vedere qua. Tutti i dati che ci interessano, la roba, perciò stiamo facendo le nostre ricerche su Amazon. Possiamo fare anche lo stesso e invece di cercarlo lì, possiamo andarlo a cercarlo in Yahoo Finance, per esempio qua. Ci ho messo già Yahoo Finance, schiacciamo qua. Mettiamo lo stesso Amazon. Ci va direttamente a Yahoo Finance. E schiacciamo su Amazon. Facciamo la nostra ricerca di quello che ci interessa di Amazon, il market cap, l'ex dividendo, tutto quello che ci potrebbe interessare. E facendo questa ricerca normalissima che abbiamo fatto adesso, se torniamo al nostro pre-search, già siamo a 6,25 pre. Possiamo fare un massimo di 8 pre-token al giorno. Non è, preferivo di più, però vabbè, già è qualcosa. Ci saranno token per fare ricerche, perciò perfetto. Poi, questi token, appena arriviamo a 1000, possiamo già uscirli fuori. Già con questo lo sapete. Poi, importante, se usate bene il conto e non fate solo per cercare cavolate, se no che lo usate come tutti i giorni, per le ricerche giornaliere, qua vi aumenterà il livello. A livello 5 vi danno il 50%, sono, per esempio, se avete riuscito a 1000 token, soltanto 500 token potete ritirare. Gli altri sono ancora lì, però potete ritirare solo 500. Se siete a livello 10, che è il massimo, potete ritirare il 100%. Se avete 1000 token già, potete ritirare già 1000. E il minimo per ritirare sono 1000. Il bello, come c'è io sotto, c'è un link che potete darlo per riferito. Se date questo link a altre persone, voi potete farvi il vostro, e vi daranno 25 token per ogni persona che si sia iscritta. Che abbia almeno fatto 50 token, non è tanto difficile, e che sia attivo già 30 giorni, come minimo. Perciò io penso che è una bella cosa per fare extra soldi, extra criptomonete, senza dover spendere neanche una lira, e facendo quello che facciamo sempre. E utilizzando sempre il nostro Brave browser, il navigatore di Brave. Questo qua è un'estensione, che ce l'ho attaccata così, ogni volta che cerco qui, direttamente me lo cerca con pre-search, così. Quindi, tutti i giorni posso prendere i miei token. Come possiamo fare a mettere questa estensione dentro Brave? Semplice. Andiamo qua. Qui ci sono tre barrette. Andiamo su estensioni. Poi qua non vi uscirà niente, io perché ce l'ho già. Poi andate su questo. Una volta, eh, prima vi scrivete, ricordate, scrivetevi sotto col link, una volta che fate scritto. Qua, una volta tutto scritto, già potete utilizzarlo. Andate qua, pre-search. Schiacciateli e ve lo scaricate. Perfetto. Ve l'avete scaricato? Fate le vostre ricerche tranquillamente. Ricordate, scaricate il primo, eh, quello originale. Pressearch.org Questo non so com'è. Io ho preso questo. Allora, niente altro da dire. Poi, quando avrete i 1000 token, li passiamo all'exchange, che adesso vi fa, ma, già che siamo, andiamo a vedere com'è questa criptomoneta. Ok? Cioè, al massimo che era a giugno del 2018 era 0,0000297, vabbè, 29, no, 200, 290.674 satoshi. Quindi, se andiamo a vedere in dollari, il massimo che è stato è stato a 80 dollari. Vediamo se vi facciamo, ah, vabbè, 80 dollari è stato, a 0,80 dollari è stato il massimo che siamo voti. Adesso siamo a un centesimo, perciò non è male. Facciamo i conti che se questa moneta crescerà, è una bella, un bel modo di avere altre criptomonete per passarle poi a Bitcoin o non a Bitcoin. Se, per esempio, vanno meglio in Ethereum, le passiamo a Ethereum, bisogna vedere che criptomoneta ci interessa a noi passarla. Che ci diano di più, per esempio, in Ethereum. Ethereum è andato giù, però a Bitcoin costa adesso di più, perciò possiamo giocare anche con il cambio di valute. Le passiamo a HitBTC, le passiamo alla nostra criptomoneta che ci interessa e poi ce le passiamo a Uphold per poterla utilizzare come a noi più ci conviene. Vabbè, questo era tutto. Spero vi sia piaciuto il video. Se vi piace, scendete like, commentate al di sotto se vi sembra interessante questo tipo di video, se sono una cavolata. Quelli che ci piacciono le criptomonete, io penso che è molto interessante poter avere le criptomonete senza dover spendere una lira e farle crescere piano piano. Alla fine dell'anno che abbiamo fatto 100 euro tra tutte le criptomonete, perfetto, sono 100 euro che sono regalati. Questi 100 euro poi se li investite, li passate se volete a dollari, li mettete su Itoro o li usate dentro ItoroX per fare... Come vi posso dire, per fare trading e farle crescere ancora, ci possono fare tantissime cose. Appena troviamo un po', almeno 50 dollari in criptomonete, penso che le passerò dentro ItoroX e cominceremo a fare trading anche con loro. Così vediamo se riusciamo a fare crescere di più il nostro conto anche in quella maniera. Penso che sarà molto interessante avere il nostro conto per fare trading normale e il nostro conto per fare trading con criptomonete, con strategie e tutto. Questo lo faremo crescere piano piano in questo canale. Dai, è tutto per oggi. Giacciate il like, soscrivetevi al canale. Sotto nel link della descrizione avete il link di affiliato, per favore utilizzatelo. E ci vediamo alla prossima. Dai, ciao! Ciao! Ciao!